SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, anche questa settimana una puntata tutta da correre a fil di cielo con le scarpette a trail running. Tra importanti novità e strepitosi colpi di scena va in archivio un'edizione mitica del Tour de Jeanne, una di quelle che passerà alla storia. L'edizione 2017 passerà alla storia per la spettacolare fuga di Franco Collet, la sua inaspettata crisi e il ritiro a 22 km dall'arrivo. Passerà alla storia per il nuovo strepitoso record di Yavi Dominic Sledo e la bella impresa di Lisa Borsani. Ma andiamo per ordine, all'inizio tutto come da copione, con i più forti davanti che macinano chilometri a ritmi forsennati. Il colpo di scena nella notte di martedì, Franco Collet, lanciatissimo verso il successo, cade, stringe i denti, ma poi si ritira dopo aver fatto sognare migliaia di fan. Sembrava tutto già scritto, una storia dall'epico finale, una cavalcata trionfale, un'impresa mitica destinata ai letto fine. E invece no, Franco Collet ha dovuto alzare bandiera bianca. Proprio vero che non è finita, sinché non è finita, la stanchezza ha prevalso sulla mente e sul cuore. Per lui una decisione che fa male, una decisione che brucia, una di quelle che lasciano il segno nel fisico, nella testa e nell'anima. E anche se l'ingegnere Aostano resterà il vincitore mediatico dell'edizione 2017, il primo uomo ad abbattere il muro delle 70 ore nella storia di questa epica avventura sull'alta via della VDA è il basco Javi Dominguez Ledo, suo lo strepitoso record di 67 ore, 52 minuti e 15 secondi, che resterà il crono da battere negli anni a venire. Un'altra bella storia da raccontare è quella del pompiere eurobi Oliviero Bosatelli, vincitore 2016, quest'anno rivestiva il ruolo di outsider. I ritmi tenuti da Dominguez e Collet erano fuori portata. Lui stesso in un'intervista gli ha definiti cavalli di razza, eppure con l'umiltà di sempre, ma con un fisico davvero runner, un fisico disegnato da ore e ore di corsa, Bosatelli ha tenuto duro sino a guadagnare una seconda piazza che vale una vittoria. Per lui finish time di 69 ore, 16 primi, 19 secondi. Terzo curma il varesino Andrea Macchi, vincitore dell'edizione 2017 dell'Orobi Ultra Trail. Al femminile nessuna sorpresa, dominio di Elisa Borzani su Silvia Triguero-Sgarrote e Marina Plavan. Nel Tordret, al debutto, vittoria di Cesare Clap su Gianluca Caimi e Jarno Venturini, mentre al femminile primato per due con Giuditta Turini e Tatiana Locatelli, con Gwendalina Simona a completare il podio. Zaccapp, neve in quota e niente grigna settentrionale, ma sempre grande spettacolo. Vincono la gara, come nel 2016, Antonioli e Dragomir. I titoli italiani vanno però al campioncino del CS Esercito di Courmayeur e all'atleta del team LASPO, Lisa Buzzoni. Sì, è il mio terzo successo qua, la Zaccapp è veramente la mia gara. Oggi poi è un doppio successo, essendo anche il campione italiano due volte contento. Sapevo che era il mio percorso, sono convinto che potevo fare un'ottima gara e salire sul podio. Già dalle prime fasi di gara ho staccato gli avversari e ho continuato tutto senza mai voltarmi e ce l'ho fatta. Questo anno è stata la seconda volta quando ho vinto la Zaccapp, sono contenta. Mi dispiace che il tempo non è stato bello per fare tutto il percorso, ma mi ritorno sicuramente per fare. E mi è andata bene, non ho fatto tante gare questa mese perché era una gara importante per me e voglia di vincere e sono contenta. Sono subito avanti in testa e mi è andato bene. Ad Amello Ultra Trail, sulle montagne di confine tra Lombardia e Trentino, sarà un fine settimana da Long Distance. Chiusa le iscrizioni sulle prove Long Distance, restano apertissime quelle della 30 Trail domenicale. Le date da segnarsi in agenda sono quelle di venerdì, quando dal centro di viazza d'olio partirà la 180 km da 11.500 metri di slivello positivo. Il giorno successivo toccherà la 90K con 5.700 metri di più con star da Ponte di Legno, per lasciare spazio e riflettori alla domenica mattina alla 30 Trail, proposta in partnership con Rosa Associati, azienda leader nell'ambito del running. Sempre più evento per tutti, sempre più un happening per gli amanti dell'outdoor running, visto che quest'ultima prova strizzerà l'occhio all'off-road. Rispetto al passato si rappresenterà infatti molto più scorrevole, 650 metri di slivello positivo con solo 30% di asfalto su pista ciclabile. Altra novità di quest'anno è rappresentata la 30 Lenta Trail, un'inedita iniziativa ludico-motoria aperta a tutti coloro che vorranno condividere l'Ad Amello Ultra Trail a ritmo libero, tempo massimo 7 ore. Per maggiori informazioni www.adamelultratrail.it Iscrizioni aperte, prima importanti adesioni e una doppia valenza per il chilometro verticale Chiavenna Lagunce, che quest'anno sarà finale del nuovissimo Eolo Vertical Cup e penultima tappa del circuito Sky Vertical Affari e Sport. Un appuntamento imperdibile per i veri gourmet dell'Holly Up che, alla corte di Nicola del Corto, potranno avere l'ebrezza di correre al fianco di grandi campioni su un tracciato naturale dove sono state siglate le migliori prestazioni cronometriche mondiali che attualmente appartengono a Bernard De Matteis, 30-27, e Valentina Belotti, 37-42. Mentre alla segreteria del comitato organizzatore stanno arrivando le prime importanti adesioni, è giunto il momento di fare un primo bilancio in corsa di una stagione ricca di emozioni. Per quanto riguarda il circuito Eolo, la triatleta piemontese Camilla Magliano guarda tutte dall'alto dei 260 punti ottenuti in tre gare. Al maschile, invece, l'azzurro Puppi è saldamente al comando con 325 punti. Per quanto riguarda il ranking del circuito Sky Vertical Affari e Sport, del quale Chiavenna sarà la penultima tappa 2017, la bergamasca Martina Brambilla è attualmente il leader con 413 punti. Orobico, anche il primatista maschile, dove troviamo il polivalente Fabio Bazzana, primo con 430 punti. Macchina organizzativa, operativa e tanta carne al fuoco, quindi per questa sfida con il cronometro su un sentiero naturale unico al mondo, dove una lunga serie di gradini di differente altezza porta i concorrenti a dover gestire nel migliore dei modi gambe e fiato. Grandi campioni e semplici agonisti sono attesi su quegli infiniti 3.298 metri da correre con il quale in gora, con Start posto ai 352 metri dalla chiesa di Loreto e arrivo ai 1.352 metri sul livello del mare di Lagunce. Limone Sky Running Extreme, aperte le iscrizioni per la finale del Miguran Skyrunner World Series 2017. Limone Sky Running Extreme, sono ufficialmente aperte le iscrizioni dell'evento che, per la quinta volta consecutiva, sarà finalissima del circuito Miguran Skyrunner World Series, specialità Sky Race. La vertical in notturna chiuderà invece lo Skyrunner European Championship, il circuit continentale di specialità. Sul lungo lago Marconi verranno incoronati gli Skyrunner più forti della stagione. Non solo, la Kermesse grifatta Dynafit si presenta con due grandi novità, un ritocco al tracciato sulla prova principe e una sfida di Downhill dedicata al campionissimo Fabio Meraldi, da anni impegnato dietro le quinte della Limone Extreme nella duplice veste di consulente e direttore percorso. Tra gare, 1.200 concorrenti da tutte le parti del mondo, un unico grande spettacolo. Venerdì 13 ottobre, frontale accese per il vertical, km Grestè della Mughera, quasi 1.100 metri di dislivello positivo in nemmeno 3 km di percorso by night. Sabato 14 sarà la volta della gara principe alla Limone Extreme, 29 km di velo Skyrunning, con un dislivello di 2.540 metri, partenza e arrivo nella suggestiva location di Lugolago Marconi. Sempre sabato, per i neofiti della specialità e le giovani leve, è prevista la 10K, al termine delle prove agonistiche, premiazioni e un terzo tempo memorabile. Maggiori informazioni e link e iscrizioni sul sito www.limonextreme.com Anche per questa settimana è davvero tutto, il nostro consiglio in gara non cambia, sognate, osate e non mollate mai! SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri